Non mangio più la banana! L'ho presa piccola perché a me le banane non piacciono, però ho fatto lo sforzo. Però preferisco la frutta che cresce a casa nostra che le banane. Però voglio dire una cosa, tutti hanno diritto di mangiarsi la banana, ma ha due condizioni. Prima, la banana te la devi comprare e pagare, non prenderla con la paghetta che danno quando arrivano in Italia. Secondo, ciascuno è pregato di mangiarsi la banana a casa sua, perché qualcuno ha il difetto di buttare per terra le bucce. E se ce ne sono troppe di bucce, qualcuno poi va a finire che si fa male con tante bucce in giro. E per dimostrare ancora di più che coi fatti dovremo portare a casa i risultati, martedì alle ore 9 depositeremo il quesito referendario, perché finalmente è andato in gazzetta e quindi lo possiamo proporre, pre-rabrogare l'abrogazione del reato di migrazione clandestina. E io credo che dovremo mandar via la gente per la voglia che avranno di firmare. Quindi un'altra sfida, portiamogli un milione di firme per far capire che col periodo alfano abbiamo chiuso. Buona parola a tutti!